Sì, grazie Presidente. Come sa anche il consigliere De Priamo, noi circa tre settimane fa, un mese fa, abbiamo convocato una commissione ambiente per affrontare il tema dei cimiteri, perciò è un tema che comunque già abbiamo affrontato ampiamente anche con gli uffici di AMA. Quello che chiediamo oggi è la possibilità, qualora il consigliere De Priamo fosse favorevole, a cercare di cambiare la mozione sull'impegna perché noi vogliamo valutare la possibilità dell'ampliamento del cimitero laurentino, insieme agli uffici, insieme al Dipartimento stesso e dare degli indirizzi più precisi e più puntuali. Grazie.